E meno male che non si è persa la situazione ragazzi ai limiti del drammatico in casa Cerventina e sono buono perché passi in avanti visti da tanti tifosi viola io ragazzi non ne vedo neanche mezzo ma neanche mezzo ne vedo coraggio zero voglia di osare zero gioco zero io penso che questa Fiorentina voglia e meriti di andare in serie B perché la situazione è questa tutte le squadre praticamente in serie A giocano meglio della Fiorentina hanno più coraggio della Fiorentina e hanno una maggiore identità della Fiorentina magari hanno meno punti magari hanno rose meno qualitative della Fiorentina però hanno un'identità la Fiorentina un'identità non ce l'ha poi brandelli veramente ieri sera imbarazzante perché a me sembra che quel poco di buono che ha fatto Giacchini sia stato ulteriormente cancellato da brandelli che sta facendo ancora peggio perché voglio dire devi vincere questa partita contro il Genoa e anche l'inizio della partita abbastanza positiva in quei minuti Blawicz è il fulcro dell'attacco era uno dei migliori in campo ieri sera Blawicz mi è piaciuto per esempio soprattutto nel secondo tempo era il fulcro dell'attacco sempre propositivo sempre anche cercavano comunque di creare pericoli di essere un punto di riferimento là davanti te non la devi permettere cutrone ma perché non puoi giocare con la doppia punta te devi vincere una partita perché non mettere due attaccanti almeno Giacchini quando a volte dovevi vincere a tutti i costi una partita io mi ricordo contro il Milan proprio prima del lockdown che mise praticamente tutti all'attacco e in 10 contro 11 andammo a rimontare quella partita per il semplice fatto che ebbe coraggio che mise in campo la doppia punta Blawicz e Codrone e in quell'occasione riuscimmo ad avere una bella spavalderia un bel coraggio è quello che dobbiamo fare è quello che dobbiamo fare ma poi ragazzi manco giocassimo contro il Genoa dei titolari contro un Genoa con diverse riserve in campo con per esempio senza Zappacosta con tutti venuto a Firenze per fare 0 a 0 con praticamente quattro difensori centrali sulla linea difensiva con anche i terzini tutti bloccati con l'infortunio di Zapata nel primo tempo con l'infortunio anche del portiere è entrato al terzo portiere cioè era un Genoa anche bello rabberciato bello pieno di assenze e te ti devi attaccare un gol al novantasettesimo che meno male è arrivato perché ora c'è Atalanta Sassuolo Verona Juve e non mi sorprenderei che in queste quattro partite facessimo 0 punti perché tu pensi di vincere a Bergamo con l'Atalanta a Bergamo con l'Atalanta pensi di vincere dovrebbe succedere un miracolo come dovrebbe succedere un miracolo di vincere a Reggio Emilia con Sassuolo come dovrebbe succedere un miracolo di vincere a Torino con la Juve come dovrebbe succedere un miracolo di vincere con questo Verona perché con questo Verona ragazzi la Fiorentina attuale mi tremerebbero le gambe ad affrontare una partita contro una squadra che corre in quella maniera, che ci mette quell'anima e che è squadra in quella maniera con un allenatore in quella maniera. Io veramente non ho parole, non ho parole, non ho parole su tante cose, non ho parole a vedere esultare come un gol in finale di Champions, Barone e Dainelli in tribuna per un pareggio all'ultimo respiro contro il Genoa delle riserve e il Genoa penultimo in classifica. Non ho parole a sentire Prandelli nell'intervista finale dire che questo pareggio è come una vittoria perché se fai delle dichiarazioni del genere meriti, meriti di andare in Serie B perché la mentalità è da perdente, la mentalità è da perdente, è da perdente. Un allenatore con due controcoglioni così andava lì nel post partita a fare l'intervista e diceva non sono assolutamente contento della prova di stasera perché era una partita da vincere che invece abbiamo pareggiato all'ultimo e non sono ancora contento e la squadra deve lavorare ancora tantissimo. Un allenatore serio diceva questo, diceva questo. Invece no, coraggio zero. Quando riuscivi almeno a fare qualche piccola trama offensiva interessante, ha tolto tre giocatori, ma poi mettere Borca Valerio, ma qual è l'utilità del cambio di mettere Borca Valerio? che poi ha perso il pallone dell'1-0, ma a che cosa serviva? Al 93esimo si mette a fare i giochini in aria con la pressione del Genoa che recuperavano palla, si mette a fare i dribbling in aria. io veramente non ho parole, non ho francamente parole, ma poi giocatori, giocatori riconoscibili, non messi al loro agio anche dalle condizioni, dallo schema di gioco, non c'è niente che funzioni. niente, 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 mi piange il cuore vedere una tirantina così, perché gestita così male, gestita proprio con i piedi, veramente ora come ora ci meritiamo di andare in Serie B, ma poi anche lì, Kayekon e Ribéry, ma perché li deve mettere? perché li deve mettere in queste condizioni che giochi in nove, giochi in nove, Ribéry inesistente, Kayekon pure, almeno ci mette un pochino più di impegno, ma pure, due giocatori inesistenti, inesistenti. Ma Ribéry è inesistente da inizio anno, ha giocato una partita, Ribéry ha giocato quella con l'Inter, poi non ha più fatto niente Ribéry. quindi sarebbe anche l'ora di lasciare un pochino più di spazio a qualche giovane, a qualche giovane emergente, invece che dare sottile in prestito al Cagliari, ma perché non tenerlo e metterlo al posto di Ribéry e usare Ribéry come chioccia? no, no, invece no, Pradè a dire abbiamo trovato l'allenatore giusto in Di Francesco per far crescere sottile a Cagliari e ti dimostra anche la poca fiducia che ha Pradè in queste gestioni tecniche, che sono veramente, è come lasciare la Fiorentina abbandonata a se stessa. Poi appunto, quel poco di buono che Iachini aveva fatto è stato ulteriormente rovinato, per esempio la difesa a tre mi sembrava almeno che funzionasse, insomma tra Milenkovic, Pezzella e Caceres, a parte in questo inizio di stagione era uno dei nostri punti cardine, e invece no, si è voluto cambiare anche questa, con una difesa a quattro che non ha né capo né coda, con Caceres che fa il terzino bloccato e anche lui francamente insomma lo si vede che è un pesce fuor d'acqua, io francamente non lo so, non lo so, non lo so neanche il codo di aspettarmi da queste prossime quattro partite, ma poi dice diamogli tempo a Prandelli, ma diamogli tempo di cosa? Ma per dar tempo a Prandelli devi perdere in casa col Benevento, fra poco non perdi in casa contro il Genoa delle riserve, e perdere in quella maniera senza reazione a San Sirio, e questo sarebbe l'impatto di Prandelli, dice va bene dargli tempo, ma queste partite non si giustificano, cioè un allenatore a cui devi dare tempo, però in casa col Benevento a sei superiore deve vincere, in casa col Genoa a sei superiore deve vincere, cioè queste sono partite da vincere a prescindere che l'allenatore si sia insediato oppure no, ma queste sono partite da vincere a prescindere da tutto, a prescindere da tutto. Mamma mia ragazzi, siamo caduti veramente in basso per esultare per un gol al novantasettesimo, oltre i minuti di recupero, perché poi vai a polemizzare con l'arbitro per il VAR, per il gol di Buonaventura annullato, ecco poi Buonaventura è stato bravo, a liberarsi dell'uomo con il fallo per inserirsi in occasione del gol annullato, e ammurare Vlaovic su un gol sicuro. Ecco, l'utilità anche di Buonaventura è l'utilità di costruirti le squadre sugli svincolati, sui Borca Valero, sui Riberi, sui Buonaventura, sui Kayekon. I risultati sono questi, perché non cresci con i Borca Valero, non cresci con i Riberi, non cresci con i Kayekon, si cresce con gli Auge, si cresce con i Sallemakers, si cresce con giocatori funzionali alla guida tecnica, si cresce con gli Zaccagni, si cresce con giocatori funzionali al progetto tecnico, non si cresce con le figurine, non si cresce con i giocatori bolliti, con gli svincolati. Va bene ragazzi, forza Viola, perché ce n'è veramente bisogno, e in bocca al lupo, in bocca al lupo per le prossime quattro partite, perché non mi sorprenderei di arrivare al 22 dicembre sempre con 9 punti e in zona retrocessione, perché il calendario, appunto, tra Atalanta, Sassuolo, Verona e Juve, penso che ci metta di fronte quattro squadre che giocano tutte, tutte, nettamente meglio di noi, tutte squadre con cui puoi andare tranquillamente a perdere e a non ottenere punti nelle prossime quattro partite, quindi in bocca al lupo e speriamo di raffimulare qualcosa di buono.